Non c'è una cosa con Anna, ragazzi, la più bella delle aure. Ragazzi, venite. Sono tutti in primo vita. Eccoci. Lui è Tommaso lo chef, lui che ha fatto? Ragazzi, su, vado a far lavorare qua. Venite, 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 venite. Venite con me. A lui io la voglio. Aspetta, la voglio pure io. Aspetta. Se lo passiamo, se lo passiamo. Ragini, non me la girai. Ma come non te la giro? Senti, vai vicino. Ma così, gustiamo. Sì, ma così. Va bene? Grazie. Grazie. Siamo stati benissimo, è inutile dirlo come sempre. Grazie.